Siamo a 100 finalmente, super festa! Per una super festa, cosa portiamo? Una gran festa! Avevamo promesso qualcosa di raro e effettivamente questo è raro! Sono emozionatissimo, è una cosa che volevo aprire un bel po'. Lui è molto emozionato! Cosa vogliamo trovare oggi? Come minimo o un Umbron's World Star, o se no ci troviamo un bel Star Rizard set base, sì! Che anche lì... Non è uguale al prima edizione, ma va bene lo stesso! No, perché... Sì, va bene, simbolismo del 25esimo anniversario... Abbiamo, innanzitutto, un codice per voi! Le tre carte promozionali, anche questa è tanta roba, soprattutto la specie Delta! Molto, molto bella! Mamma mia, spettacolo! Allora, un codice... Orsi! Si spera sempre di rullare in questi pacchetti, però è sempre difficile, è sempre... Molto duro! Poi con solo due pacchetti sparsi anche, quindi figura... Fai molto fatica! Una reverse e storage unit... Raro, neanche neolografico, va bene, va bene! Ci può stare, dai, come primo pacchetto, speriamo di trovare qualcosa di meglio nei prossimi! Sicuramente sì, anche perché ci abbiamo i pacchetti forti dopo, va bene! Dai, qui mi tiri fuori un taxi test! Qui abbiamo il codice! Un staccio, Rotarock, un beat in reverse e un explode! È solo raro! Si parte con le bustine forti, eh! Eh, qui andiamo sul serio! Carichiamoci un po'. Abbiamo il codice per voi! Niveltal, Chiogre... Oh! Nux Ray! Mamma mia, così proprio prima bustina! Subito! Ok, ok, ci può stare, bellissimo! E un professor research! Però adesso ci accontentiamo! Bello, bello, bello! Considerando che la prima bustina... Codice Cosmo! Niveltal... Oh, subito un'altra! Ok, buono! Un'altra! Un bel Clayton livello 45! Buono, buono! Adesso il Galeo! Adesso il Galeo, va bene, va bene! Oh, due bustine! Due bustine, esatto, due... Non fanno schifo per niente, ragazzi! Da due fuori serie, praticamente! Possiamo considerare fuori serie? Sì, dai, consideriamole! Anche perché non sono comunque carte normale... Ma di questo set, comunque, sono carte... Niente, è normale! Allora, qua di c'è! Abbiamo un... Oh, oh! Zekrom! Ah, Cosmo, Emma, va bene! E un Salzone B! Che non ha una fuori serie, ma è comunque una buona carta! Ma bene! Tre bustine, tre belle pullate! Rescita! Cosmo! Bellissima! Questa la voleva un botto! Questa la voleva un botto! E dietro c'è qualcos'altro! Ficca su un pezzo di compleanno! E zama zenta! Zato zama zenta! Incredibile! Incredibile! Strambella! Che gran pullata per ora, ragazzi! Mamma mia, anche questa che... Quattro pacchetti, una bustina meglio dell'altra! E questa bustina, secondo me, vince tutto! Tra Pikachu, compleanno di Pikachu, strabello! Questa molto bella! La voleva un botto! Gli scriverò sicuramente Fenix! No, non è vero! No! Non scriverò niente! Non scriverò niente! Per noi che dava la carta! Codice! Poi che dobbiamo chiudere in bellezza, almeno! Un Lugia! Speriamo! Lugia! Grudon! Uuuu! 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 Umbreon! Umbreon! L'abbiamo chiamato, ragazzi! L'abbiamo chiamato! No, ragazzi! No! L'abbiamo chiamato! No! Sto tremando un botto! No! No! Questa è la seconda in assoluto che volevo di più! Bellissima! Perché sappiamo già che quella è la prima! È la prima, sappiamo! Però guarda, mi accontento così! Veramente che pullate, ragazzi! Che pullate! Quattro fuori serie? Quattro fuori serie? No, non lo so! Non le ho neanche ricontate, ma troppo belle! Troppo belle! Quattro fuori serie! Poi comunque abbiamo anche il Pikachu che abbiamo trovato dietro Umbreon, che sarebbe del set base, vabbè, è stata fatta full art, ma comunque... Allora, codice, andiamo avanti noi, perché abbiamo l'ultimo pacchetto e vediamo cosa possiamo trovare! Parche, se mi tivi fuori Charizard, guarda! Ah, vabbè, Grudan, ok, ok! È un altro Pikachu! Va bene, ci sta, ragazzi! Non potevamo chiedere di meglio, comunque! Mamma mia! Una gran pullata! Mamma mia! Pullata mostruosa, mostruosa! Gran spacchettamento! Sì! Con poche bustine, poi! Con pochissime bustine, tra l'altro nelle bustine ci sono solo quattro carte, quindi... Esatto! No, ci è andata veramente di lusso, ragazzi! È andata veramente bene! Ci siamo divertiti molto! Mettete sempre un mi piace, commentate sotto i video, fate sapere sempre i vostri spacchettamenti preferiti! Eh sì! E cerchiamo di accontentarvi il più possibile, ovviamente! Ti salutiamo e al prossimo video! Ciao! A presto!